Sotto 5-4, 0-40, nel terzo set della seconda partita della sfida contro la Serbia, dopo aver perso la prima con Musetti piegato al terzo set da Mio Mirkekmanovic, l'Italia e Jannik Sinner sembrava in balia della Serbia di Novak Djokovic ancora una volta. Ed invece il tennis è uno sport formidabile ed imprevedibile allo stesso tempo. Si è costretti sempre e comunque a dover portare a termine tutto il lavoro fino all'ultimo punto ed incredibilmente a non riuscirci a cadere in quella così comune difficoltà di chiudere le partite è stato niente meno che Novak Djokovic. Partiamo da qui, dalla seconda partita, sovvertendo l'ordine cronologico di questa sfida emozionante, perché è stato sicuramente il momento più alto dal punto di vista tecnico. È stata una partita la terza in pochi giorni fra Novak Djokovic e Jannik Sinner, nemmeno si trattasse di una serie playoff NBA, parecchio differente dalle altre, soprattutto dall'ultima, e lo è stata diversa in particolare grazie a un approccio completamente differente da parte di Jannik Sinner nelle fasi iniziali della sfida, in cui è riuscito immediatamente ad imporre decisamente più il suo di gioco, a prendere in mano lo scambio grazie a un'esplosività, una brillantezza molto superiore, ad un dritto che da subito ha funzionato molto meglio che domenica a Torino e anche grazie ad un Novak Djokovic imperfetto, non così risoluto appunto come nella finale di Torino, nel cercare di levare appunto il pallino del gioco a Jannik Sinner. Un primo set tanto perfetto da parte dell'alto attesino, da lasciare un pochino tutti esterefatti, anche da avere qualche dubbio sul fatto che l'andamento potesse essere quello anche durante il secondo set. E in effetti le cose sono cambiate nel secondo set, non tanto nella parte iniziale, ma quanto in un passaggio ben specifico sul 2-1 Djokovic-Servizio Sinner, durante il quale il serbo ha mostrato ancora una volta quella capacità di accendersi d'improvviso, è riuscito dal 40-15 Servizio Sinner a mettere qualche risposta eccezionale delle sue, e immediatamente a dare fuoco in senso positivo al suo tennis e ad entrare di prepotenza in una partita, cambiandola come lui spesso è riuscito a fare anche in passato nel giro di qualche punto, cambiando proprio la sensazione generica della partita. Ha cominciato a giocare molto meglio, a cercare la palla meglio sul dritto, a sbagliare infinitamente meno che nel primo set e soprattutto a far venire qualche dubbio a Sinner, che ha subito moltissimo questo break, tanto che non è riuscito sostanzialmente a ritrovarsi per tutto il secondo set, perdendolo nettamente sul 6-2 e dando la sensazione poi, ad inizio terzo set, che il quadro tecnico in quel momento della partita fosse di proprietà, insomma, del campione serbo. E in effetti è stato così, solamente che Sinner è riuscito un po' a ricomporsi e rimanere comunque agganciato a una partita che grazie appunto a questa tenacia, al voler mantenere comunque una presa sulla partita nonostante le difficoltà, si è instradata su un certo equilibrio fino al 4-pari, momento assolutamente decisivo di tutta questa Coppa Davis, probabilmente sicuramente della Coppa Davis dell'Italia e di questo incontro in particolare, quando appunto Sinner al servizio sul 4-pari si è trovato 0-40 e in quel momento è accaduto veramente l'impensabile. Sinner ha giocato qualche buon punto, che sicuramente ha contribuito a ricacciare indietro Djokovic, insomma, ad annullare anche dal suo lato, insomma, con della qualità dal suo lato dei match point e la possibilità di chiudere la partita a Djokovic, però quello che d'imprevisto è accaduto è il fatto della tensione, della contrazione, del blocco avvenuto in quel momento in Novak Djokovic, qualcosa sinceramente che io non avevo mai visto in questi termini. Djokovic ha praticamente smesso di riuscire a giocare con la fiducia che aveva avuto fino a quel momento, dopo le difficoltà del primo set aveva trovato una fiducia, una forza che sembravano quelle usuali ed improvviso in quel momento invece qualcosa deve essere accaduto nella sua mente, nella sua testa e di conseguenza anche nel suo braccio. La bravura di Sinner è stata sfruttare senza alcuna esitazione l'esitazione del suo avversario, riuscire a riagganciarlo sul 5-pari, brecarlo subito sul 6-5 successivamente e tenere un servizio che gli ha dato una vittoria veramente dai tratti clamorosi. Per Sinner ovviamente un'immensa iniezione di fiducia, insomma, che ribadisce ancora uno status o rincrescita assoluta e per Djokovic invece un colpo veramente sorprendente perché fino a quel momento lì appunto sembrava aver trovato quella sua solita incredibile capacità di gestire perfettamente il margine di sicurezza giusto all'interno di una partita. Trovare un margine di sicurezza rimanendo efficace è una delle chiavi del gioco di ogni tennista e la sicurezza è anche quello di cui avete bisogno mentre navigate e usate il vostro computer o smartphone. Per aiutarvi in questo importantissimo e molto sottovalutato aspetto della vostra vita c'è lo sponsor di questo episodio, ovvero NordVPN. NordVPN è un servizio di criptografia che maschera l'IP del vostro dispositivo in modo non solo da proteggere la vostra identità digitale da sguardi indiscreti e da pubblicità invasive ma anche di accedere a contenuti che nel vostro paese non sono disponibili ed invece in altri paesi sì. Ad esempio io ho iniziato a utilizzarlo proprio per quello e per riuscire a vedere il torneo di qualificazione e le partite dei primi turni dei campi secondari del torneo di Wimbledon che non venivano trasmesse a quel tempo in Italia. Ma oltre a questo, tramite un servizio come Thread Protection, NordVPN vi aiuta anche a eliminare il rischio dilagante e costante legato alle truffe al phishing online particolarmente grave durante le feste. Quindi direi che ci sono tutte le ragioni per farci almeno un pensierino e se passate da loro tramite il link che vi lascio in descrizione potrete accedere ad uno sconto speciale per il Black Friday che vi permette appunto di avere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali di NordVPN e sul piano PLUS per ottenere NordVPN e NordPass sempre ad un prezzo speciale. Detto di questa grande sfida all'ennesima di questi ultimi tempi fra Novak Djokovic e Yannick Sinner bisogna dire che però determinante per l'esito di questo tie fra Serbia e Italia è stato il doppio finale decisivo. E però bisogna dare un occhio anche a cosa ha portato al fatto di doversi giocare il doppio decisivo ovvero la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Mio Mirke Kmanovic in apertura di giornata. Bisogna dire che per un'ora e mezza, un set abbondante, si è vista una versione di Musetti che non si vedeva da un po' in senso positivo. Il giocatore toscano ha interpretato una partita di ottimo livello ed erano veramente mesi che non si vedeva fare qualcosa del genere soprattutto riuscendo a trovare appunto come dicevamo prima il giusto equilibrio fra frase difensiva e poi capacità anche di cambiare l'andamento dello scambio cercando di essere incisivo e ci è riuscito soprattutto a una buona giornata con il dritto finalmente in spinta, finalmente cercato con un certo anticipo e poi la solita eccezionale giornata nei punti forti del suo tennis ovvero il rovescio che finalmente si è rivisto pungente, penetrante, lungolinea e tutto quello che è in grado di fare molto bene dalla metà campo in avanti con una mano insomma deliziosa. Una prova che ha grandissimo valore nel primo sette e mezzo perché di grandissimo valore è stato anche il livello mostrato dall'avversario da Mio Mirke Kmanovic che ha giocato benissimo insieme hanno dato vita a un sette e mezzo veramente spettacolare di grande livello, di grande tennis il giocatore serbo a cercare di fare il suo tennis fatto di anticipo, di spinta, di bilanciamento fra dritto e rovescio però anche un tennis che può mostrare della debolezza soprattutto se sollecitato attraverso le variazioni soprattutto se sollecitato a venire nei pressi della rete a cambiare ritmo costantemente è quello che ha provato a proporre Musetti e per un po' ce l'ha fatta è riuscito a riaprire un set iniziato non benissimo un po' sovrastato dal ritmo del serbo è riuscito a vincerlo giocando un buonissimo tiebreak e in quel momento sembrava che insomma potesse prendere in mano le sorti della partita è stato così anche in apertura di secondo fino a due pari e poi un break in un game tirattissimo un break subito ha cambiato di improvviso invece quello che era il mood diciamo dell'incontro si è spenta la lucidità, l'intensità la tranquillità di Musetti forse anche appunto per una certa mancanza di abitudini a riuscirla a mantenere questa intensità e questa aggressività è sembrato dover fare uno sforzo notevole a livello attitudinale e questo è un po' il problema sempre di Musetti che non riesce a mantenere questa intensità questa aggressività all'interno delle partite d'improvviso c'è stato un vuoto che Kmanovic ha assorbito in maniera notevole il colpo subito dalla perdita di un primo set che spesso è stato in suo controllo è riuscito a ritornare a giocare alla grande a spingere su tutte le palle anticipare a togliere il tempo a Musetti il giocatore toscano ha perso abbastanza nettamente poi il secondo set e ad inizio il terzo set si è aggiunto si è saputo poi anche un problema fisico tra l'aduttore e la coscia che sicuramente ha cominciato a infastidirlo nei primi game e poi si è acuito successivamente in un ultimo set che non ha avuto molta storia insomma Kekmanovic è stato abilissimo a sfruttare questo momento e queste condizioni cattive da parte di Musetti a impossessarsi a vincere una gran partita quindi sull'1-1 poi il doppio decisivo che ha visto scendere in campo un po' a sorpresa Mjomir Kekmanovic stesso insieme a Novak Djokovic uscito dal colpo clamoroso subito dalla sconfitta con Sinner e poi la coppia che si era già vista italiana nei giorni scorsi fra Sinner appunto e Sonico la partita per tutto il primo set è stata decisamente a senso unico gli italiani hanno mostrato una qualità nettamente superiore e complessiva Sinner sulla scia dell'entusiasmo e di una forma veramente strepitosa ha nuovamente dominato il gioco servendo bene rispondendo benissimo tenendo una diagonale di dritto spaventosa Sonnego è riuscito a fare il suo dall'altra parte invece i serbi sono sembrati un po' disorientati Djokovic forse ancora un po' scosso da quanto è successo qualche minuto prima e Kekmanovic un vero pesce fuor d'acqua in doppio e insomma ha vinto il primo set 6-3 tutto sembrava incanalarsi in una vittoria in un certo senso agevole anche perché c'è stato subito un break in apertura a favore dell'Italia sembrava tutto a posto invece un contro break immediato su un servizio di Sonnego e la partita lì è nuovamente cambiata si è bloccata in un certo senso i game sono cominciati ad essere lunghissimi e combattutissimi con un'alternanza quasi uguale fra prodezze e pasticci enormi è un po' specchio dei giocatori tecnicamente in campo degli ottimi singolaristi non tanto avezzi al doppio e si è andati avanti così per 3-4 game dove ci sono state occasioni da entrambe le parti c'è stata occasione per breccare da parte della Serbia per breccare da parte dell'Italia poi sui tre pari il momento decisivo un break che ha portato l'Italia ad andare avanti 4-3 tenere il servizio ad andare avanti 5-3 e poi avere l'occasione finale al servizio con Sinner di chiudere la partita il game è stato incredibilmente sofferto un po' di tensione alcuni errori i primi praticamente della partita in successione dovuti un po' alla tensione di Sinner ma alla fine ancora una volta soprattutto il giocatore al terresino è riuscito a ricomporsi e a portare a casa una vittoria veramente storica per il tennis italiano l'Italia domani affronterà a nemmeno 24 ore di distanza a partire dalle 16 di domenica l'Australia che ha vinto ieri la sua semifinale contro la Finlandia l'Australia è una squadra particolare l'Italia parte sicuramente con dei favori del pronostico soprattutto a livello di sensazioni visto che Sinner è in così grande stato di forma e sembra poter offrire ovviamente delle garanzie contro Deminaur e probabilmente anche in doppio però l'Australia è una squadra particolare soprattutto perché ha un grandissimo doppio di specialisti come Hebden e Purcell e quindi questo porta una variabile abbastanza insidiosa e soprattutto anche perché l'Italia in realtà non ha una grande sicurezza sul primo singolare le condizioni di Musetti sono da verificare Sonigo che in doppio sembra in forma però pare avere qualche problema fisico Arnaldi viene da una sconfitta un po' pesante forse anche dal punto di vista mentale l'Australia probabilmente schiererà Popering che è un giocatore con un grande servizio estremamente potente poco mobile con delle difficoltà soprattutto in risposta e a livello di continuità di rendimento però insidioso sicuramente su queste superfici e quindi tutto sarà da vedere non c'è assolutamente niente di scontato l'unica cosa scontata è che è un appuntamento sicuramente importantissimo per tutto il tennis italiano e poi ci vediamo